Lo consiglio anche a tutti gli operatori pastorali per poter svolgere il loro servizio con più competenza, ma lo consiglio anche a tutte le persone che vogliono approfondire la propria fede perché ritengo che in questo periodo sia quanto mai fondamentale interrogarsi sul perché credo e sul perché essere cristiano.